ciao a tutti ragazzi qui esi degli animali che parla sono in compagnia di lella rimarrà qua per un po in questo video andremo a vedere gli ultimi animali che ho acquistato per me quindi sono animali che ho in negozio ma che non saranno in vendita perché sono animali che ho scelto io o per riproduzione o anche solo per il fatto che mi piacciono e ho deciso di acquistarli e tenerli per me sono diversi animali ci sono alcuni serpenti alcuni camaleonti c'è qualche sauro e adesso pian pianino le andiamo a vedere uno a uno e vi racconterò anche un po perché le ho scelti e che cosa ho intenzione di farci con loro incominciamo subito con una cannonata e stiamo parlando di un furcifer pardalis questo nello specifico è un nosifali lo si riconosce chiaramente dalla colorazione azzurra adesso è particolarmente arrabbiato infatti si vede anche come sta cambiando colorazione guardate anche la banda che ha sugli occhi presenta tantissimi colori in base a dove lo si guarda se vedete ci sono anche dei puntini rossi anche sulla faccia c'è del rosso è molto 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 incazzato però è un camaleonte veramente bellissimo se guardiamo i colori a parte il fatto che ha cercato di mangiarmi la faccia è veramente molto bello è anche strano che sia così tanto arrabbiato perché qualche giorno fa era più tranquillo probabilmente si doveva ancora ambientare adesso è un po più sicuro di sé e di conseguenza è abbastanza incazzoso lui è un maschio chiaramente lo si riconosce sia dalla dimensione anche dalla colorazione comunque è un maschio riproduttivo perché i camaleonti sono riproduttivi anche molto giovani ve lo ricordiamo e insieme a lui ho acquistato una femmina proven questo significa che ha già effettuato una riproduzione e ha fatto una deposizione con successo perché per chi non lo sapesse io ho già provato più volte a riprodurre camaleonti ma le femmine purtroppo hanno un altissimo tasso di mortalità e di conseguenza ho desistito ho trovato l'occasione di acquistare una coppia e ho deciso di riprovarci la femmina non ve la faccio vedere perché è molto delicata è attualmente in ovulazione quindi è molto nervosa preferisco lasciarla stare però guardate che bellezza questo pardalis probabilmente è anche più bello del mio ambilobio che avete visto più volte nei miei video ma il nosifalli come colorazione è veramente veramente bellissimo infatti tende ad essere anche uno dei pardalis più costosi diciamo nel pool di locality che si trovano in fiera e si capisce perfettamente del perché continuiamo con dei camaleonti e qui abbiamo dei camaleonti un po' più particolari questi sono due camaleo caliptratus il camaleonte dello Yemen diciamo che è il camaleontino più comune in commercio però questi se notate hanno qualcosa di particolare questo qua è l'unico morf esistente dei caliptratus si chiama pied e come nel pitone reale in pratica causa delle zone depigmentate come si possono essere ad esempio queste zampine che sono rosa o queste fasce bianche che ci sono sul corpo in pratica più il corpo è coperto o dal bianco o dal rosa più la qualità del pied è maggiore la cosa curiosa è che non è che due camaleonti completamente rosa quindi quasi completamente pied daranno camaleontini come loro è casuale quindi anche da loro ne può uscire uno tutto rosa per assurdo come magari menisce che ha giusto un puntino sulla punta della coda come in questo caso vediamo se si vede in cam ha appena appena la puntina della coda depigmentata quindi potrebbe sembrare un normal ma in realtà è un pied è un gene recessivo quindi se io avessi preso solo un caliptratus pied e un altro l'avessi tenuto normale i figli non risulterebbero fuori con questa colorazione infatti ho preso una coppia sono maschio e femmina lo si distingue dal colore dall'elmo e hanno anche gli speroni sui tacchi diciamo così delle pinze posteriori ho preso una coppietta loro sono giovani chiaramente dovranno crescere ma già l'anno prossimo saranno riproduttivi ovviamente non poteva mancare all'appello un drago barbuto questo nello specifico è un maschio è un ipo leatherback yellow chiaramente quindi in questo caso si parla di citrus perché se guardate ha un giallo molto bello che adesso la camera non prende il vero colore che ha questo animale ha anche un bello stripe marrone e questo qui è un animale che a me piace veramente tantissimo infatti l'ho acquistato perché ho detto è troppo bello lo voglio avere io ho una femmina citrus molto bella anche lei quindi sono certo che questi due animali l'anno prossimo mi daranno delle baby pogone gialle veramente veramente molto belle come vedete lui è adulto avrà i suoi 40 centimetri per peserà penso almeno 280 grammi ma sarà anche intorno ai 300 comunque è una bella pogona è tranquillo come vedete come tutte le pogone è sempre molto docile sono molto fiducioso nei piccoli che questo maschietto mi donerà l'anno prossimo quello che sto per farvi vedere è probabilmente l'animale più costoso tra tutti quelli che vedremo in questo video molti di voi non se lo aspetteranno però è così perché purtroppo le colorazioni i morfe tutto sul mercato cambiano prezzo all'improvviso c'è quello che costa tanto c'è quello che costa poco e questo costa veramente tanti soldi si lancia chiaramente perché è un ciliatus per chi non l'avesse riconosciuto subito questo è un gecko ciliatus però ha una caratteristica molto particolare lui è un lily white i lily white sono l'unico morfe di gecko ciliatus quindi di correlopus ciliatus quando si parla di colorazioni come può essere il pinstripe il dalmatian l'harlequin sono tutti colori ma non sono genetica sono colorazioni sono linee di sangue o selezioni come le vogliamo chiamare invece questo gecko qua che è un lily white questo è un gen è proprio è genetica infatti questo tipo di animale è questo tipo di morfe è dominante anzi è codominante quindi questo qui in teoria è un maschio accoppiandosi con una femmina metà dei baby metà della prole uscirà con questo gene qua che per intenderci è quello che sembra è il bianco per intenderci che sembra come se l'avessero sporcato con la cancellina per intenderci questo è il lily white è un morfe particolare perché la super forma quindi se io metto un maschio e una femmina di lily white assieme e si riproducono tutta la prole sarà super lily white quindi la super forma del gene però è un gene che uccide in pratica i baby non sopravvivono quindi non bisognerà mai e poi mai unire due lily white assieme se no la pena sarà la morte di tutti i baby che si chiuderanno dalle uova è un animale particolarmente costoso adesso i prezzi pian pianino stanno calando perché essendo codominante ne nasceranno sempre ogni anno e di conseguenza pian pianino il mercato si riempie e i prezzi calano questo al momento del video è un gecko che costa tranquillamente anche 5-600 euro pensare che un paio di anni fa era un animale che si riusciva a trovare anche intorno ai 2-3 mila euro quindi il mercato si sta flettendo molto velocemente però pian pianino usciranno dei lily white più strani dei lily white particolari che continueranno comunque a tenere un prezzo molto alto sul mercato qua invece c'è un progetto molto ambizioso ho in mano due boa costrictor imperator però hanno diverse cose particolari una di queste è che sono giovani perché questi hanno un anno ma se guardate sono molto piccoli per essere di boa di un anno questo perché? perché hanno della genetica particolare in questo caso specifico ci sono la femmina che è questa che è una mandarin belli et albino et leopard quindi il leopard e l'albino ci sono ma non sono esposti quindi sono genetica presente ma che non si vede subito invece il maschio che è quello più scuro anche lui porta sia l'eopard che l'albino questo cosa comporta? l'eopard è una genetica particolare che mantiene il boa piccolo quindi non saranno mai boa enormi da 15 chili ma una femmina adulta rimarrà intorno ai 6-7 chili la cosa particolare è che unendoli assieme quindi accoppiandoli ci sono delle possibilità genetiche estremamente interessanti di cui c'è il 6% escaumorf che si chiama supernova che è bellissimo perché è nero e arancione con la venatura del granito che è veramente bellissimo e anche il prezzo che ha di mercato è uno stipendio per intenderci perché sono un morf molto costoso e c'è il 3% ragazzi quindi il 3% di far uscire un supernova albino un supernova albino io ho guardato i prezzi che ci sono sul mercato europeo e parliamo di un animale che ha un prezzo assurdo perché parliamo di 6-7 mila dollari quindi parliamo di cifre da capogiro però con il 3% di possibilità che esca io chiaramente dovrò aspettare almeno un paio di anni prima che loro diventino riproduttivi perché sono ancora molto giovani dovrò dargli il tempo di crescere maneggiarne due non è assolutamente semplice ve lo devo dire però è una cosa che vale la pena provare a me comunque interessano anche perché restano piccolini quindi riesco a dedicargli lo spazio che necessitano senza troppi problemi quindi li terrò con me e vedremo il futuro cosa mi prospetta ecco diciamo così sperando che le possibilità siano buone ecco diciamo che ho finito le novità gli animali nuovi comunque ne ho già acquistati altri durante l'anno ve li ho fatti vedere ho preso diversi draghi barbuti ho preso un po' di tutto ho anche una coppia di nasicus comunque ho acquistato diversi animali quest'anno sperando nell'anno prossimo che sia un buon anno che magari lockdown o comunque problemi vari lasciano un po' più di libertà un po' più di spazio per anche poter andare alle fiere all'estero quindi insomma l'anno prossimo se tutto va bene sarà un anno molto molto fiorente diciamo così io proverò a espandermi ancora di più aumenterò un sacco la produzione quindi avrò un sacco di animali nuovi avrò anche molti 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 più impegni ma comunque avrò una mano in più molto probabilmente quindi non sarò più da solo ma avrò altre due braccia a darmi una mano a gestire gli animali ad accudirli a pulirli a sistemarli a starci dietro perché da solo il carico di lavoro inizia a essere abbondante e adesso io non ho baby in nascita a parte qualche gecko ciliatus che vabbè quelli sono abbastanza semplici da gestire nasceranno tantissimi animali quindi avrò bisogno di un sacco di aiuto lo avrò molto probabilmente anche se dovessi rimanere da solo riuscirò comunque a gestire tutto anche se mi dovrò probabilmente mangiare un po' di ore di sonno e mangiarmi praticamente tutto il tempo libero quindi speriamo che vada tutto bene io spero che vi siano piaciuti tutti gli animali che vi ho mostrato come sempre lasciatemi un commento fatemi sapere magari qual è quello che vi piace di più o se anche a voi avete acquistato recentemente degli animali che vi piacciono visto che ci sono state delle fiere come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video